Ora abbiamo fatto una serie di nove episodi su Dante e la Commedia e su Casalotto. Perché proprio nove episodi abbiamo fatto? Perché nove è un numero che ritorna, è il multiplo di tre. La Divina Commedia è formata da tre cantiche, ognuna delle quali è formata da 33 canti e ogni canto al suo interno è composto da versi che sono raggruppati in terzine, che sono esattamente gruppi di tre versi l'uno. Quindi nove, numero perfetto. Numero perfetto abbiamo scelto. E abbiamo scelto anche un team di lavoro per creare questi nove episodi, formato appunto da nove persone. Certo, nove persone divise in gruppi da tre. Per cui abbiamo tre insegnanti dei vari ordini di scuola, anzi le vogliamo ringraziare perché hanno dato un contributo fondamentale nella scelta dei versi. Per la scuola primaria la dottoressa Roberta Buzago, per la scuola secondaria di primo grado la dottoressa Silvia Scolari e per la scuola secondaria di secondo grado la dottoressa Anna Rita del Curatolo. E poi abbiamo avuto tre persone che si sono impegnate per la parte tecnica, insomma, della faccenda. Fondamentale direi. Quindi Luca Angolini per la parte che riguardava l'immagine, Emanuele Rastelli per la parte musicale, il contributo musicale, e infine per la diffusione Carlo Cattaneo. E poi abbiamo avuto le tre menti pensanti, per così dire, inferno, prodatore e paradiso. Chi mette l'inferno, prodatore e paradiso di queste tre menti? No, non accentriamoci in giudizio di valore. Però i tre ideatori, in qualche modo, oltre a me, Emma Raschi e Gianna Gazzi, ovviamente, abbiamo avuto anche la persona che sta al di là della macchina da presa che c'è di fronte, ed è il regista Walter Borghetti, originario, tra l'altro, di Casaloldo. E ultima domanda che ti faccio, Emma. Ma perché questo bisogno di fare nuovi episodi a Casaloldo, sulla Divina Comedia, e in particolare sull'inferno? Ma perché noi siamo stati citati come Casaloldo nell'inferno, in particolare nel ventesimo canto, e di questo dobbiamo essere orgogliosi. Casaloldo ha dedicato a Dante una lapide che è appunto apposta sulla nostra torre civica. Forse devo vedere dopo. Direi che è un'ottima idea. Questa lapide, tra l'altro, è stata sistemata lì il 14 settembre di cento anni fa, esattamente nel seicentesimo anniversario della morte, così come nello stesso anno è stata dedicata la nostra scuola, che è appunto la scuola primaria dedicata a Dante e a Ligieri. Sempre a Dante abbiamo nominato la via che i casaloldesi di un tempo conoscevano come la via dei negozi, che è quella che proprio corre vicino al vaso tartaro. Anche lo stesso tartaro fa proprio parte dei luoghi infernali che sono citati proprio nella Divina Commedia, quindi anche questo è un ottimo riferimento. E se non erro, anche Virgilio è citato a Casaloldo. Bravissimo. Piazza Virgilio è un altro dei nostri luoghi riconosciuti nei toponimi, così come anche via Paradiso. Quindi abbiamo tanti elementi che ci collegano a Dante ed era necessario e doveroso dargli questo contributo. Grazie. Grazie.